fantallenatori italiani che lo avete preso al fantacalcio puntando su di lui anche a cazzo di cane magari tremate hi this is Gabo me na youtube with na cosa slong proprio una cosa siamo tornati con questo nuovo video perché era d'obbligo dedicare un video del genere ad un giocatore che attualmente in serie a ma anche in nazionale sta facendo faville e non favilli anche se gioca in squadra con lui ma lui gioca titolare favilli una volta si eccentono detto questo christoph piatek scritto piatek ma si legge piontek sicuramente sta attirando i riflettori di tutti i più grandi club calcistici europei perché sta facendo un inizio di stagione di quelli esagerati con la polonia non si sa per quale motivo non è stato inserito in campo non partiva titolare ma non è stato neanche inserito poi dice te credo che la polonia perde contro l'italia perde all'ultimi minuti e segna birachi proprio per quel motivo non lo so magari preziosi avrà detto a quello da quello da polonia all'allenatore della polonia non lo far giocare perché se no c'ho paura a vedere è possibile non ci credo manco se lo vedo ma ha detto che mi arrivano i messaggi nel frattempo cose strane vabbè detto questo prima di tutto vi volevo dare un cenno di quello che è il giocatore quindi christoph piontek perché così si pronuncia primo luglio 1995 attualmente 23 anni fa la prima punta ma forse in tanti non lo sanno all'occorrenza fa la seconda punta ma può giocare anche come attaccante a destra detto questo ha un contratto col genoa fino al 30 giugno 2022 quindi siamo nel 2018 19 20 21 e 22 in otto partite ha fatto 13 gol ma queste otto partite una è de coppa italia e ne ha fatti quattro in quella partita de coppa italia le restanti sette e in italia ovviamente in serie attualmente sotto le partite giocate ma lui ne deve recuperare ancora una ecco come si scarica il telefonino al 20 per cento ne ha fatti nove de gol in sette partite questo ha fatto nove gol quindi che cosa sta succedendo ve la faccio molto breve rapida e semplice sta succedendo che sta attirando l'attenzione dei più grandi club non solo in italia ma anche in europa ve faccio qualche nome l'ultimo è uscito ieri il napoli di de laurentis che addirittura ha detto e dichiarato me sto parlando con preziosi ha già ricevuto altre offerte ma penso di avere una prelazione secondo alcune indiscrezioni avrebbe già lanciato proprio un'offerta di quelle cash da 35 milioni di euro mi dica la verità secondo me preziosi 35 milioni gli dice a meno che mo se ferma insegna più ma attualmente e dico attualmente prima che inizia la non aggiornata di serie a gli dice 35 milioni mi dispiace caro aurelio me ce pulisco il buco e va bene non solo perché ovviamente squadre come la juventus sono interessatissime al giocatore che sta dimostrando finora particolare fiuto del gol e non solo fiuto perché poi finalizza ci sembra no ci sembra mi sembra che ci sia di mezzo anche il milan anche l'inter seppur defilate perché ufficialmente o ufficiosamente ancora non è che si dice interessante però c'è anche la roma addirittura che visto che abbiamo preso chic a 40 milioni e questo ne vale 40 magari facciamo lo scambio chic piontech chic va al genua dopo essere stata la sampdoria quindi infame fa 275 gol col genua arriva piontech da noi is the new iturbe o is the new chic che prende il posto lo sostituisce proprio appieno però sembrerebbe appunto che anche la roma ovviamente per il dopo gecko no gecko quelli che trovate sui muri gecko ed in gecko sembra sia sia interessata proprio ad accavarrarselo poi a parte il fatto che ieri gecko ha fatto doppietta con la bosnia e va bene ma poi sembrerebbe aver dichiarato ritorno in premier league potrebbe essere tardi ma mai dire mai quindi se potrebbero aprire scenari di mercato veramente incredibili è ovvio che io da tifoso della roma vi dico piontech alla roma me prenderebbe in colpo poi se arriva la roma e fa schifo e va bene però ci sono anche club europei interessatissimi al giocatore c'è il borussia dortmund c'è l'atletico madrid e tra i top 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 club abbiamo il barcellona lo vorrebbe come vice lui suarez ecco arrivati a sto punto un barcellona che lo vorrebbe come vice lui suarez te fa pizzare le orecchie perché dici cavolo se si interessa una squadra come il barcellona parere mio se devi fare il vice di suarez se sei intelligente sì è sempre il barcellona ma lascia perdere perché suarez non te fa strusciare una partita in campo non ci entrerai quasi mai praticamente e te potresti bruciare c'hai 23 anni secondo me se proprio devi cambiare squadra ti serve un palcoscenico che ti dia la possibilità di giocar titolare fisso inamovibile quali sarebbero però le intenzioni del Genoa e me lo auguro da fantallenatore perché se no veramente i prossimi video li faccio in orizzontale così perché cioè l'affare è stato grosso e sapete io al fantacalcio degli youtuber se l'ho preso lo hanno quasi snobbato perché mi pare che se ne è andato tipo a 24 fantamilioni quindi me l'hanno lasciato abbastanza con tranquillità io ci puntavo forte e non perché ha fatto 4 gol in coppa italia ma perché già avevo sentito parlare del profilo sapevo che avrebbe giocato titolare quest'anno al Genoa e dico io quest'anno uno del Genoa e uno della Sampdoria pensa bene legge e ne scrive e me li prendo alla fine ho preso Guagliarello e ho preso proprio lui fino adesso e dico fino adesso come gratto stanno facendo veramente bene io mi auguro che Piontek non parta a gennaio se proprio deve partire mi auguro che lo faccia per una squadra italiana ma c'ho paura che cambiando contesto potrebbe succedere che vabbè lasciamo sta comunque dovesse partire realmente a giugno ma tutto dipenderà dalle prossime partite adesso ve le vado a analizzare perché i foglietti sono due analizzerò tutte le ultime partite del Genoa che devono ancora avvenire cominciano ad esserci dei big match un po' appiccicati quindi credo che Piontek sia proprio alla prova del 9 e non perché c'ha 9 gol in Serie A 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15 già mi sono scordato c'ha 13 gol sì 9 gol in Serie A non per quello non l'ha provata il 9 passano l'aereo come al solito sempre quando registro ve lo dico subito allora Juve Genoa la prossima Juve Genoa la prossima segnerà Piontek da fantallenatore mi auguro di sì però vabbè Genoa Udinese segnerà Piontek sicuramente una partita più facile della Juventus Inter Genoa Genoa in trasferta Genoa Napoli che avirai Genoa Sampdoria se fanno i terbi Torino Genoa queste sono le ultime 3 e 3-6 partite dovesse Piontek sopravvivere tra virgolette nelle prossime 6 partite con almeno altri 3 o 4 centri secondo me a gennaio buonanotte e potrebbe succedere che noi fantallenatori potremmo smadonnare veramente male perché se va a Barcellona ragazzi praticamente è un top player attualmente capocannoniere della Serie A ci abbandonerebbe definitivamente quindi speriamo di no io spero appunto che rimanga che rimanga fino a giugno attualmente la valutazione del giocatore si aggira sui 35-40 milioni ma è ovvio che dovesse arrivare a dicembre e segnare altri 4-5-6-7 gol 60 milioni potrebbe valerli nel giro di un attimo in quel caso vi dico quello che penso io perché Preziosi lo conosco abbastanza bene e credo che lo conosciate anche voi tifosi del Genoa gli piace monetizzare e non poco e solitamente a gennaio il Genoa è comunque una squadra che è ben propensa e disposta a vendere i propri gioielli e non mi riferisco ai gioielli quelli sotto dei famigli ma volendo anche e quindi boh e quindi boh ma vale la pena sperare da fantallenatore che sto parlando che Piontek smetta di segnare con così tanta regolarità perché se no potrebbe partire a sto punto se proprio mi deve partire a gennaio vi dico quello che penso mi facesse una quindicina di gol nelle ultime cinque sei partite quante ne mancano prima di Natale sette non mi ricordo vabbè sto andando a memoria sei partite siamo a è ottobre oggi manco mi ricordo che mese è figuratevi io sono tornato ieri da Milano sto in condizioni veramente pietose se proprio è vuoi che deve andare via a gennaio magari restasse in Italia ma la vedo difficile dovesse andare al Barcellona a Real Madrid al Borussia Dortmund dall'Atletico che a sto punto fammene un'arte 15 di gol e poi a gennaio dovete provvede non ci trovo proprio il senso a dire vabbè speriamo che insegna ho preso il fantacalcio se no se ne va poi dovesse restare fino a fino a giugno l'anno prossimo dovesse comunque restare in Italia se ne va tipo alle cifre di Ronaldo 200 perché poi 9 gol nel giro dei 7 partite se fate la moltiplicazione arriva a 38 giornate non succederà mai perché se no veramente arriverebbe a fare 2000 gol però il ragazzo è di indubbio valore è di indubbia prospettiva ma ripeto dipende non basta sì fino adesso ha indecchato proprio la situazione migliore io poi sono uno di quelli che dice che a livello psicologico se la prima giornata deve a bene segni la seconda deve a bene segni la terza deve a bene segni comincia a scattare dentro di te un meccanismo che dici devo segnare segnerò sicuramente te viene tutto più facile però così come qua me gratto perché ce l'ho a fantacalcio succedono questi periodi positivi potrebbe succedere anche lo potrebbe succedere anche l'opposto e quindi potrebbe smette definitivamente di segnare preziosi non è stupido vuole monetizzare e quindi magari dice mi conviene se vede che il giocatore inizia a fermarsi insegna più mi conviene tenermelo che la valutazione del mercato così come sale alle stelle in un attimo scende e crolla a picco in un attimo fatemi sapere voi che cosa ne pensate nei commenti se voi fantallenatori lo avete preso come ho fatto io e avete deciso di puntare su di lui oppure se sapete manco chi fosse lo avete lasciato ai vostri amici a uno e adesso gli sta facendo la differenza al fantacalcio perché è capace che c'è sta gente al fantacalcio perché l'ho visto ho visto casi del genere con Piontek Perizza e Stepinski in attacco titolari che stanno a vincere le partite vincolo tutte le giornate perché quello segna periodicamente ogni botta in attacco ma mi sto dilungando un po' troppo quindi fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti lasciate un bel mi piace su questo video arriveranno tanti nuovi contenuti sul mondo del calcio commentate col vostro parere ripeto De Laurenti si è arrivato a 35 milioni io non credo che Preziosi li accetterà per gennaio secondo me per gennaio ne vuole minimo 50 se arrivi a dicembre che ha fatto un altro di 4-5 gol arriva il Barcellona a tua leva perché te ne dà 60 ve lo posso assicurare Atletico Madrid non è come il Barcellona che spende così tanto per un prospetto che ancora ha tanto da dimostrare Borussia stessa identica cosa però secondo me il Barcellona avete visto con Malcom papà Pepicio io offro doppio triplo ciao Roma panchina giochi più è così Napoli l'ho detto Juventus che zitta zitta secondo me è sempre la favorita perché non fa mai trapelare dice ha offerto 70 no non si dice la Juve ha offerto tot se lo prende scopriamo quanto ha offerto quando se lo prende Milan e Inter un po' defilate le milanesi all'Inter servirebbe un vice Icardi però Piontek secondo me è un giocatore che se lo compri a quelle cifre va fatto gioco a titolare nel Milan c'è Iguain se parla del clamoroso ritorno di Ibrahimovic ve dico che sarebbe un investimento cioè Cudrone sarebbe un investimento un po' è nella Roma magari con Edin Dzeko che potrebbe abdicare chi lo sa per decidere di andare altrove potrebbe poi arriva is the new chic the new turbe the new inculate mi piace commentate condividete iscrivetevi al mio canale qualora non lo aveste ancora fatto secondo voi continuerà a segnare sarà il capocannoniere della serie A possibile che il Gabbone con la sfiga che si ritrova è riuscito a prendere un giocatore che gli porterà dei risultati a salire attualmente non so se sapete quanto sto in classifica al fantacalcio degli youtubers vi invito ad andare a guardare i video vi lascerò la playlist in alto a destra mi farà vincere il fantacalcio non è possibile io non ci credo manco se lo vedo detto questo a voi col dilemma ciao